eccoci qua buongiorno a tutti da Alessandro di 4V d'Italia per chi mi segue da un po' probabilmente questo CJ7 se lo ricorda questo è solo un aggiornamento sull'avanzamento di questo di questo restauro siamo arrivati al punto che la scocca è stata rimontata l'abbiamo completamente riverniciata abbiamo tolto delle quintalate di stucco di un precedente restauro fatto un po' così così adesso mancano le cose che sembrano minore ma sono quelle più lunghe perché sono tutte le finiture gli altri pezzi dobbiamo ancora assemblarli cofano portellone posteriore parabrezza e tutto il resto però siamo abbastanza avanti giusto per chi non ha seguito gli altri video questo è un CJ7 dell'83 ha un motore 6 cilindri 4 e 2 è ancora carburatore e il motore anche questo è stato rivisto non revisionato completamente ma in buona parte e alcuni upgrade importanti di questo motore sono per esempio questo carburatore Weber che sostituisce quello originale che aveva dei problemi già di suo e questo spinterogeno con mobili integrata che dà una resa sicuramente maggiore contiamo di portarla a termine in questo senso vi aggiorneremo ci vorrà almeno un altro mesetto di lavoro molti pezzi di questa di questa gip sono difficili reperibilità e questo un po rallentato il lavoro ma noi generalmente poi alla fine ne usciamo in ogni caso per chi fosse interessato a un un restauro di questo genere quindi partendo anche da una una gip veramente malconcia noi siamo a disposizione la nostra officina si trova a Cusago in viale europa 75 noi facciamo restauri sia di tipo integrale quindi frame off sia cose anche più tranquille dove sostanzialmente rimettiamo la gip in sicurezza vi aspetto il mio numero di whatsapp è 338 7 3 1 2 7 2 5